Mi chiamo Stefania Volpe, ho 60 anni, abito nella provincia di Frosinone e sono arrivata qua a Cisinao perché tramite una pubblicità che ho trovato su internet e girando su YouTube mi ha incuriosito questo titolo Un dottore sardo, un sardo in Moldavia e quindi ho cominciato a vedere i suoi video, le sue lezioni e questo mi ha molto incuriosito perché lui spiegava tantissimo metteva le differenze tra come poteva lavorare un medico da un altro i consigli che dava e soprattutto quello che io ho trovato in lui la sua passionalità nel lavoro quindi ho avuto un primo contatto con il suo collaboratore, un referente in Italia Antonio, che mi sono trovata molto bene, mi ha spiegato tutto e da lì in pratica ho tolto tutti i denti perché avendo un problema di piorrea che negli ultimi tempi neanche sorridevo bene così ho preso questa avventura dal chirurgo al protesista, a tutto lo staff io mi sono trovata bene io personalmente non ho avuto problemi, non ho avuto nessun dolore a parte ovviamente comunque sempre un'operazione invasiva però mi sono trovata bene diciamo le mie aspettative sono state rispettate e quindi va tutto bene grazie a tutti, grazie al dottor Palmas, alla sua equip e lo consiglio veramente